Grazie Presidente. Sì, naturalmente per enunciare il nostro voto favorevole questo emendamento è molto importante perché va a indicare un percorso che per Roma è assolutamente una novità e quindi è importante richiamare quanto è di norma di rango superiore perché ci agganciamo a un percorso nazionale che tra l'altro per quanto riguarda i beni culturali per esempio sappiamo che verranno ulteriormente definiti, l'ho annunciato il Ministro pochi giorni fa, ma anche per il resto è importante far capire che questo regolamento che è della capitale d'Italia si aggancia alle norme nazionali. Questo è assolutamente importante sottolinearlo. Mi spiace non avere la capacità dialettica di un esperto del ramo giuridico ma spero che anche le mie parole così poco tecniche possano essere sufficientemente perspicue.